In un ristorante Frasi in italiano Vorrei fare una prenotazione Vorrei fare una prenotazione Vorrei fare una prenotazione Vorrei prenotare un tavolo, per favore Vorrei prenotare un tavolo, per favore Vorrei prenotare un tavolo, per favore Per che ora? Per che ora? Per che ora? Per questa sera alle otto Per questa sera alle otto Per questa sera alle otto Per quante persone? Per quante persone? Per quante persone? Buonasera Ho una prenotazione a nome? Buonasera Ho una prenotazione a nome? Buonasera Ho una prenotazione a nome? Siete aperti? Siete aperti? Siete aperti? Un tavolo per quattro, per favore Un tavolo per quattro, per favore Un tavolo per quattro, per favore Possiamo sederci a questo tavolo? Possiamo sederci a questo tavolo? È libero questo tavolo? È libero questo tavolo? È libero questo tavolo? È libero questo tavolo? Ci può portare il menu? Ci può portare il menu? Ci può portare il menu? Avete la lista dei vini? Avete la lista dei vini? Cosa prendi? Cosa prendi? Cosa prendi? C'è il menu fisso? C'è il menu fisso? Non ho tanta fame Non ho tanta fame Non ho tanta fame Prendo solo il primo Prendo solo il primo Prendo solo il primo Vuoi un antipasto? Vuoi un antipasto? Vuoi un antipasto? vorrei un antipasto e il secondo Vorrei un antipasto e il secondo Vorrei un antipasto e il secondo Che contorno avete? Che contorno avete? Che contorno avete? Che piatto è questo? Che piatto è questo? Che piatto è questo? Sono a dieta Salto il desert Sono a dieta Salto il desert Sono a dieta Salto il desert Prendiamo una bottiglia di rosso? Prendiamo una bottiglia di rosso? Prendiamo una bottiglia di rosso? Una bottiglia è troppo 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 Prefererei un calice di vino rosso Prefererei un calice di vino rosso? Prefererei un calice di vino rosso? Prefererei un calice di vino rosso? Avete il vino della casa? Avete il vino della casa? Cosa ci consiglia? 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 Vorrei assaggiare il vino locale Vorrei assaggiare il vino locale Vorrei assaggiare il vino locale Sono vegetariano Avete piatti vegetariani? Avete piatti vegetariani? Avete piatti vegetariani? Potremmo avere un po' d'acqua? Potremmo avere un po' d'acqua? Potremmo avere un po' d'acqua? frizzante o naturale? frizzante o naturale? frizzante o naturale? frizzante 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 Buon appetito! Altrettanto Altrettanto Alla salute Alla salute Alla salute Cin 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 Mi scusi, non l'abbiamo ordinato. 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 Nient'altro, grazie. Nient'altro, grazie. Nient'altro, grazie. Posso vedere il menu dei dolci? Posso vedere il menu dei dolci? Posso vedere il menu dei dolci? Sono allergico alle fragole. Sono allergico alle fragole. Sono allergico alle fragole. Andava tutto bene? Andava tutto bene? Andava tutto bene? Grazie, era tutto molto buono. Grazie, era tutto molto buono. Grazie, era tutto molto buono. Il cibo è freddo. Il cibo è freddo. Il cibo è freddo. E' troppo salato. E' troppo salato. E' troppo salato. Ci può portare il conto? Ci può portare il conto? Ci può portare il conto? Si può pagare con la carta? Si può pagare con la carta? Si può pagare con la carta? Possiamo pagare separatamente? Possiamo pagare separatamente? Possiamo pagare separatamente? Si paga solo in contanti? 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 Pago io Pago io Pago io Dividiamo 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 Grazie e a presto! Dividiamo Dividiamo Dividiamo